Si chiama Teofilo Rodriguez, risiede a Turis un piccolo centro della comunità valenziana, quindi a Valencia e Spagna e pensate che si trova in ospedale per le piaghe ma non può tornare a casa. Il motivo è presto detto, infatti è da attribuire al fatto che l'uomo in questione pesa ben 350 kg e non ci sono dei mezzi in grado di trasportare l'uomo in questione. In buona sostanza Spagna non ha un camion, uno strumento, un mezzo di trasporto adeguato che consenta lo spostamento a livello corpale di questo abnorme uomo che ha 34 anni di età. 350 kg di peso, ripeto, non trasportava, non passava nemmeno attraverso le porte, il peso eccessivo anche per far sì che andasse ad essere preso da uno e mezzo ma purtroppo non c'è un mezzo capace di trasportarlo ed è quindi per questo motivo qua che l'uomo è tra virgolette costretto, quindi obbligato a restare in ospedale chiuso in loco. Grazie, grazie di vivo cuore per l'ascolto in primis, per la visione in secundis, un salutone al prossimo video.